bella raga benvenuti in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale ragazzi che cazzo sta succedendo rockstar che cazzo sta facendo secondo me rockstar non sa più come andare avanti e ci dà la caramellina come si fa coi bimbi ragazzi per essere contenti perché prendo entro su gta giovedì mattina sono le 11 mi sbatto per fare la live e poi un par de cazzi poi una volta che decido di editare un altro video ragazzi rockstar un'ora dopo decide di mandare qualche cazzatina online allora parliamo di staccio feca di taxi ragazzi perché a parer mio questo è una cosa inutile ditemi voi che cazzo me ne faccio io di un taxi che non posso prendere non posso mettere nel garage normale ragazzi devo per forza tenerlo come veicolo pegasus ditemi che cazzo me ne faccio niente va bene magari moddandolo eccetera si riesce pure a mettere nel garage ma perché ci riusciamo noi e non lo so neanche bisogna ancora provarci quindi lo trovate al prezzo di 487 mila avete anche il bricade i ragazzi 750 mila di bricade se siete con il plus ce l'avete gratis ragazzi poi sul sito della roba non c'è niente su macchine niente ragazzi case niente non c'è un cazzo hanno messo solo questa cavolo di cosa quindi ragazzi io non so più cosa fare con gta ci è una martellata sopra gta comunque sia ragazzi posizioni delle gare gara tempo rc bandito per tutte le console tutte le piattaforme ragazzi gara a o solo per next gen in quest'altra posizione e poi l'abbiamo la gara tempo per tutti quanti sempre in quest'altra posizione ragazzi quindi lega a una certa che saremo in lobby succederà che vedete in basso a sinistra ci arriverà questo messaggio ciò vuol dire che ci dobbiamo recare in questa posizione ragazzi vi faccio subito vedere vi faccio due tagli ragazzi perché mi sentite così nervoso perché secondo me è veramente una minchiata iniziamo col dire se siete in una pubblica siete in passiva perché non volete che nessuno vi rompe le palle non potete andare ad avviare questa cosa quindi togliamoci la passiva e dopo 30 secondi potremo andare ad avviare questa benedetta cosa quindi ragazzi purtroppo il signorino fanapton ci ha già spoilerato l'interno la situazione no non c'è un cazzo raga qua dentro perché noi entreremo qua clicchiamo freccia resta freccia giù freccia su freccia la freccia ragazzi sta cazzo di freccia e non succede nessuna animazione ci teletrasporta dentro una cazzo di macchina ragazzi c'è secondo me è assurdo guardate è una cagata fa schifo poi cosa facciamo prendiamo da un punto a andiamo a un punto b raga ovviamente facendo queste cose ci sbloccherà dei outfit magliette cose va bene sblocchiamo gli a ma mille dollari 2000 dollari 3000 dollari cosa ci compro gli snack io non lo so non lo so l'aggiornamento settimanale di gta settimana per settimana a me mi sta facendo sempre più schifo perché a parer mio queste 5 6 cose che stanno mettendo giorno per giorno settimana per settimana ragazzi fatto così non ha senso perché o vi metti tutta sta roba dio santo in un unico aggiornamento aggiornamento ok e allora il senso ce l'ha perché io in un unico aggiornamento c'ho di tutto da fare c'ho tante piccole cazzate ma tu così non mi puoi dare l'accontentino perché non sei in grado di fare un cazzo di gioco perché quindi cosa vuoi fare vuoi mantenere un aggiornamento lo vuoi dividere in 3 4 parti per prolungare il più tempo possibile fare meno aggiornamenti ma che schifezza è ma sei rockstar game porca puttana ma tira fuori i coglioni tira fuori un gioco recente tira fuori aggiornamenti come si deve io mi sono stressato ragazzi gta mi sta rompendo i coglioni non c'è più un cazzo da fare ci sono gioca solo la gente che fa glitch perché ci siamo noi che portiamo i glitch oppure la gta che basta gta il resto di gta che è tanto grosso perché c'è una miriadi di cose da fare su gta sono morte tutte mettetevi nella lobby inviate pubblica aprite una gara ci sono 30 persone nella lobby due persone entrano se ti va bene se ti va bene quindi voi non lo so io spero che rockstar si dia una cazzo di mossa cioè guardate voi giudicate voi al momento del pagamento ragazzi che schifezza veramente uno scherzo non lo so sì ok mi dirai savix ma non stia facendo niente facciamo non punto a un punto b non me ne fotte niente raga devono fare qualcosa di diverso o fare in modo sì che questo gioco riprenda a vivere perché cosa dobbiamo fare ancora per due tre anni su sta cosa cosa cazzo c'è da fare ancora cioè su 15 anni tra poco ci giochiamo cosa cosa vogliamo fare non l'ho ancora capito o quindi mi danno qualcosa da fare e tutta la community è contenta o se vanno avanti così muore prima che esce il 6 il 5 quindi raga chiudo con questo chiudo con la posizione del del furgoncino ragazzi che è una cosa che può essere utile chi vuole le armi chi vuole sapere dov'è si trova in questa posizione a paleto bay ragazzi quindi che dire che spero che vi video vi piacciono lasciate un like lasciate commento se potete stare se vi ringrazio se siete arrivati fino a qua ragazzi voglio salutare sa 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 che Ragazzino che mi ha commentato In un video se lo volevo Salutare, bella bro Quindi ragazzi, da oggi è tutto E a più tardi che magari Porto qualche outfit, bella rega Grazie a tutti